il servette e qui ci siamo trasferiti ancora a un'altra partita andiamo a recuperare le informazioni e la gara tra Dinamo di Kiev a Kiev il 14 settembre del 77 e Eintracht di Braunswijk finisce 1 a 1 in vantaggio la squadra ospite con Frank trentesimo minuto il gol di Frank si decide tutto in questi minuti il vantaggio dell'Eintracht fuori casa e rivediamo il gol di Frank ricordiamo che siamo a Kiev quindi in Russia in quel periodo in un periodo ancora di guerra fredda il pareggio al trentaseiesimo di Veremeyev un'allungazione quella della Dinamo che ha recuperato palla batti e ribatti poi la palla a Veremeyev che all'altezza del dischetto non sbaglia la gara di andata termina 1 a 1 e l'Eintracht comunque ha quel gol in trasferta che sarà determinante poi al ritorno finisce così tra Dinamo Kiev e Eintracht